Valerio, è vero che se un genovese non è tirchio la banca non lo finanzia? È assolutamente vero che dietro le banche ci siano degli uomini, delle persone. Quindi noi possiamo parlare di tecnica finché vogliamo, possiamo parlare di software, di rating e di tutte le parole inglesi che vi piacciono. Dopodiché, chi va in azienda, a visitare un'azienda, è un uomo. E quell'uomo ha un modo di vedere la realtà, dei cliché se volete, per cui l'imprenditore genovese deve rispondere a un certo tipo. L'imprenditore torinese è un altro, l'imprenditore milanese è un altro. Questo non sta scritto nei libri di finanza, ma credetemi è quello che si racconta tra le scrivanie delle banche. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS